Buongiorno a tutti! Oggi preparo biscotti al pistacchio. Mi occorre 300 g di farina, 40 g di farina di pistacchio, 150 g di zucchero, 50 g di cioccolata fondente, un pizzico di sale, 2 uova, 30 g di gocce di cioccolato, un po' di vaniglia, 100 g di crema di pistacchio, un cucchiaio di lievito per dolci e 150 g di burro. Metto la farina di pistacchio nell'altra farina e mischio. Aggiungo lo zucchero, il cucchiaio di lievito. Ora metto le uova, il pizzico di sale e il burro. Mischio tutto e impasto. Impasto con le mani adesso. Finito di impastare, la metto in frigo per un quarto d'ora. Dopo mezz'ora di frigo la stendo. Mi aiuto con un po' di farina e il mattarello. Prima di stendere la pasta, metto le gocce di cioccolato nella crema di pistacchio e le mischio. E mezzo la parte. Ora con un coppapasta di 6 cm di diametro vado a fare le forme dei cerchi zigrinati. Mischio. 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 Ora la rimpasto Ora la rimpasto Per ogni biscotto vado a mettere un cucchiaio di crema Ora copro E chiudo le estremità Piggiando con le dita E li vado ad appoggiare su una teglia Musica Una volta finita la prima teglia La vado ad infornare in forno caldo e statico A 175 Fino a cottura E proseguo a finirli tutti Dopo 15 minuti Eccoli pronti Li lascio raffreddare e poi metto la cioccolata sopra Ora passo il cioccolato sopra Precedentemente sciolto A bagnomaria Musica Una volta messi il cioccolato Passo un po' di granella di pistacchio sopra Ora lascio raffreddare il cioccolato sopra Pronti da gustare? Grazie della visione Alla prossima Iscrivetevi al canale Condividete Mettete mi piace Musica Musica